Siamo con il tecnico della Fragolese, Mr. Pasquale Suppa. Una partita emozionante, la Fragolese ha sciupato tantissime occasioni, poi di forza con Allegretta l'ha messa dentro. Sembrava fatta una grande parata di pardo su rigore, però alla fine era importante portare a casa i tre punti. Sì, hai detto bene, perché basta vedere un po' purtroppo nelle ultime due partite i risultati che sono venuti oggi. Per noi e per i ragazzi era fondamentale la vittoria, oltre per la classifica, anche per buttare un pochettino alle spalle quello che ci è successo negli ultimi 15 giorni. Come ho detto prima ai tuoi colleghi, io credo che questi ragazzi oggi hanno ampiamente meritato la vittoria, anche se abbiamo vinto 1-0 e abbiamo sofferto fino al 95esimo, però non è che a livello di conclusioni la squadra ci abbia messo sotto. Però invece noi abbiamo creato e abbiamo sprecato tanto e alla fine io penso che la vittoria sia meritata. Mister, mancano altre cinque gare da disputare. La prima è andata ed è stata vinta, è stato ritorno alla vittoria dopo le due sconfitte. Con che mentalità si appresterà la Fragolese alle prossime partite? Come abbiamo fatto oggi, quella di buttare il cuore in campo, dare il massimo. Sappiamo che purtroppo il nostro jolly l'abbiamo sprecato nelle partite precedenti, adesso non ce ne abbiamo più e non possiamo sbagliare. Adesso ci tocca vincerele tutte e sperare negli errori degli altri. Comunque, come l'hanno fatto per tutto l'arco del campionato, questi ragazzi hanno dato sempre il massimo. Il calcio purtroppo ci mette pure di fronte a queste situazioni. In queste ultime cinque partite daremo il massimo e poi alla fine tireremo le conclusioni e vedremo se gli altri sono bravi a fare tutte le vittorie e faremo i complimenti. Siamo con il tecnico della Sessana, Ivan De Vichelle, mister. Abbiamo visto una grande Sessana che con carattere ha impegnato la Fragolese. Poi alla fine c'è stato il gol rosso-blu, la possibilità di pareggiare con il calcio di rigore, però quest'anno sui rigori vi dice male. Ma guarda, ti dico che io nello spogliaturo, prima di fare l'analisi della gara, dico sempre che speriamo che non abbiamo un calcio di rigore. Perché poi non è che quando sbagli un calcio di rigore sbagli il rigore. Eppure è un fatto mentale che la squadra giustamente ne risente perché avendo sbagliati già otto, giustamente dici che cazzo, non ci viene mai niente bene. Quindi è meglio che non l'abbiamo e giochiamo per vincere senza calcio di rigore. Nonostante ciò però la Sessana è venuta qui a giocarsi la sua partita, ha mostrato carattere come quello dell'allenatore. Ma guarda, pure all'andata credo che contro la Fragolese abbiamo fatto una grande gara e credo che tutte le gare abbiamo fatto una grande gara. Purtroppo giocare tutto l'anno senza campo è difficile, non sapere quando giochi, se giochi e dove giochi. Considerato che noi abbiamo un budget secondo me molto ridotto, credo che se vinciamo un'altra gara abbiamo la matematica, salvezza e credo che abbiamo fatto un grande campionato. Grazie mister. Prego, volevo fare i complimenti alla società Fragolese che ci ha accolto alla grande, non avevo dubbi perché già l'andata ho avuto il piacere di conoscere i due o tre presidenti che c'è alla Fragolese, compreso l'allenatore che stimo tantissimo e che è eccezionale e tutta la gente che sta intorno ci hanno accolto alla grande. Il presidente della Fragolese, ingegner Massimo Esposito, una partita veramente emozionante, la palla sembrava non voler entrare nella porta di Maiellaro, migliore in campo della Sessana, poi alla fine di forza l'Egretta l'ha messa dentro e ha fatto esplodere il pubblico rosso-blu. Sì, domani, oggi la squadra ha combattuto e si è visto, abbiamo voluto questa vittoria con tutto il cuore, con tutta la forza. Veramente tantissime occasioni, due pali, tantissime azioni e gol e alla fine siamo riusciti a mettere da dentro. Il portiere loro è stato veramente determinante oggi, ha fatto parecchie parate importanti, ma questa deve essere la prima di queste cinque partite che ci rimangono e non dobbiamo mollare. Lo dicevi anche nella precedente intervista, mancano sei partite da vincere e sperare poi in un passo falso del Portici. La prima partita è andata, adesso tocca andare a fuori un'altra trasferta difficile per il rosso-blu che però hanno l'obbligo di vincere per sognare la Serie D. No, Tommaso, noi dobbiamo pensare a noi, dobbiamo vincere tutte e sperare e poi guardiamo gli altri alla fine del campionato. Noi con questa grinta di oggi, perché ho veramente visto di una squadra combattiva, con tutto il cuore che hanno voluto questa vittoria, noi dobbiamo affrontare le prossime partite con questo spirito. Poi vedremo alla fine del campionato, dobbiamo prima pensare a noi, vincere tutte e poi vedere gli altri cosa fanno. Siamo con il direttore generale della Fragolese Antonio Iazzetta. Direttore, una gara cardiopalma, emozionante, la Fragolese sciupa tantissimo, però alla fine porta a casa una vittoria importante. Era importantissimo oggi vincere, contava il risultato e ci siamo riusciti alla fine, pur vincendo 1-0, ma comunque sono sempre tre punti. Si è visto dall'inizio la partita complicata, vuoi un po' anche la sfortuna, che è la bravura del portiere della Sessana, non riuscivamo a fare gol, pali, traverse, insomma, poi alla fine ci siamo riusciti. Adesso la Fragolese disputerà un'altra gara ostica, in quel di Forio, una gara contro un'isolana, mancano altre cinque partite alla fine del campionato, cosa ti aspetta dalla Fragolese? Ovviamente mi aspetto il meglio da tutte e cinque le partite, andremo a Forio con un unico obiettivo, quello di vincere la gara, per mantenere ovviamente immutate oppure per accorciare le distanze dal portici, quindi mancano cinque partite, saranno altre cinque battaglie, lo sappiamo, saranno bene i ragazzi, oggi è stata una partita che effettivamente ha dimostrato che ancora i ragazzi ne hanno dentro, quindi mi è fatto enormemente piacere questa vittoria, anche se alla fine, insomma, molto difficile e complicata, però comunque è stata una vittoria che è voluta con voglia e con carattere. Grazie direttore. Grazie a voi.